Bisogna, come dicevo prima, avere le idee chiare su ciò che si vuole e fissarsi dei traguardi ambiziosi. Poi bisogna saperci circondare da collaboratori che siano anche degli amici, in modo che quando si fanno il sacrificio e si lavora tanto, non sembra di stare su un luogo di lavoro, ma ti senti come al bar in mezzo agli amici. E poi bisogna non deludere mai nessuno, a partire naturalmente dai collaboratori, ma non deludere mai i tuoi interlocutori. Questo è fondamentale, avere il rispetto degli altri, mettersi sempre nei panni degli altri, entrare in ogni settore con l'idea di verificare che tutto ciò che si fa in quel settore può essere cambiato nei metodi e avere sempre cioè la voglia di innovare. E poi che altro?